Domenica sera abbiamo chiuso un'altra stagione da record. Domenica sera si è chiusa la quarta stagione del Sunday Night con eventi e radio nostalgia al Juxtap di Sarzana. Dopo 133 domeniche il Sunday Night si riconferma la perishow dei record. Noi siamo pronti ad affrontare una nuova stagione insieme a voi dal 3 giugno al Beach Club Versilia anche quest'anno. E state con noi con eventi e radio nostalgia.